a condividere diciamo così una paura che ho come alunna nel vedere tanti insegnanti che ormai hanno un posto fisso che se ne fregano del lavoro che hanno da fare che lo fanno tanto per fare, con calma, senza crederci davvero e invece vedere professori, giovani, che non hanno ancora un posto fisso ma che ci credono, credono in noi come futuro fanno le cose per il gusto di farle, sono motivate, hanno passione hanno voglia di cambiare le cose perché questi professori che tanto ci temono e tanto hanno voglia di insegnare si vengono alle porte battuta in faccia quando invece i professori che lavorano da anni hanno una certezza del futuro solo per una riforma detta da gente vecchia che ormai si è presa, non lo so, tutto il potere insomma non è giusto che per i 4, i 3, i vecchi dei 3 stanno su senza sapere bene cosa vogliono fare per il bene del futuro e dell'Italia noi ci rimettiamo con la nostra istruzione e con la voglia di cambiare grazie a tutti grazie a tutti